e dove è già tutta chiusa ma questa è la stoppe è esagerata questo è il mio lavoro è il mio lavoro è il mio lavoro è il mio lavoro c'è un video di business di mio vecchio amore e questa macchina è anche la nostra macchina più bella la nostra macchina è la più bella, è anche la macchina del salone, c'è anche un video che ho raccontato che abbiamo compito la macchina, ma siamo due ragazze di questa macchina Sì, abbiamo già il corso, e abbiamo già il corso, ma sembrava di uscogli il corso è il corso, poi è stato il corso, il corso è il corso ma non è il corso, è il corso, c'è un corso come si vedi la macchina? ecco il padrone anche il jablecchio come? il mio cuore il mio cuore lo soberto perché lo soberto ora in lice stupendo dopo questo giro che buona che buona che bella che buona che buona che buona che buona Quattro! Cosa! Quattro! 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 Gli, un tipo di gribi, non si non lo vedevi. Io sono in giallo, e qui, con il paparetto, che cosa sono i gribi? Pagani! prima che vi faccio, c'è un'altra cosa che è una buona, non so, vittaminate bisogna mangiare in una casa, per esempio, ne vittorio in una casa, non mi sono ancora in una casa, è stato un'altra cosa, è stato un'altra cosa, è stato un'altra cosa, è stato un'altra cosa, è stato un'altra cosa che non lo vediamo oggi. ... 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 Guarda come è nascosto, guarda questa Ma che funghi sono? Magari non sono buoni, però come sono nascosti, hai visto? Tutti crescono dalle foglie, ma perché non sono buoni? C'è possibile che esistono solo i porcini? Non lo so, no! Sì, bellino, guarda! Questo è quello che... Hai scoperto ora? Chirona! Oh, è tutto sudato il cane! Sudato il cane! Io ho buttato un fiorellino ai morti! Che schifo! Guarda, che schifo, guarda! Non è niente questa cosa! Guarda, guarda! È quello che fa il soletico! No, lasciatevi vivere, dai! Guarda! Guarda, mostra, sei la boia, sai come è morta! Poverina! Dove caduta? Prendilo, prendilo! No, non è nada, andiamo! Prendilo a lei! Vai! Guarda la mamma! Giada, che regaloni fai? Visto che lei ti ha messo i pantaloni! Alla mia bimba? Qualcosa gli regala la sua mamma! Basta che sta brava! Questa è una mamma! Visto che lei mi regala! Questa è una mamma! Questa è una mamma! Questa è una mamma! E fa il mio figlio! Eh? Epa! 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 Max per la posta va bene Quelli andrebbero subito a sciacquare Ma te la testa la spelli o no? Non va, è infatti Il busto? Non è Scusi, le vuoi portare a questo l'acqua o no? Mamma voglio l'acqua Avremo un pochino di fametta sai Io no Non ho mangiato niente Una morso e il panino Nel caffè Mamma ce l'hai l'acqua Questa qui è praticamente la centrale Usa la nostra acqua qui per sviluppare le energie elettriche Ah, delle energie, della sveta Vedi qui aprono, ci sono delle cose che girano Capito? Vedi tutta questa acqua che viene nel monte Quanto vedi, ci sono dei pesci detrati, grandi Allora, ci sono dei pesci detrati e sono dei pesci detrati Andiamo sul ponte Andiamo sul ponte Andiamo a vedere sul ponte Andiamo a vedere sul ponte Andiamo a vedere sul ponte Tepllo stava, potie piegare Tepllo stava, potie piegare Tepllo stava, potie piegare Tepllo stava, potie piegare Stava, potie piegare Tepllo 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 stava, potie piegare Grazie a tutti.